Buonasera, buonasera dall'imprenditore e gli altri, finalmente ci ritroviamo, per due settimane sono mancato all'appuntamento e oggi ricomincio io questa trasmissione, sono stato degnamente sostituito dal direttore Gianluca Fabi, sono riuscito a guardare solo una trasmissione, la seconda volta mi è venuta quasi la nausea, sto scherzando, ho visto che sono sostituito molto dignitosamente, mi sono anche preoccupato, non volevo perdere l'appalto e poi saluto anche invece il nostro rettore Fabio Fortuna, buonasera, Fortuna come andiamo? È tanto tempo che non ci vediamo ultimamente, lavoro, cose, la vita cambia, negli ultimi giorni, domani però se Dio vorrà io sarò. Va bene, detto questo, sono passate due settimane, due settimane di grandi, di tanti avvenimenti, tanti avvenimenti nazionali, internazionali, europei, politica, guerra, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori, però ora dobbiamo rientrare diciamo in argomento, io voglio rientrare in argomento, qual è l'argomento che più di ogni altro oggi ci colpisce? Per capirlo guardiamoci la copertina stranamente curata, no, no, non c'è la copertina questa sera, no, non c'è la copertina. Vedo che c'è scritto servizio di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, purtroppo non sarà in servizione, perché Ranchi non ha fatto servizioni, ma agricoltori e pasticci, una battaglia in nome delle lobby, vediamoci questo servizio. Dopo la prima riunione con il governo e dopo la lettera letta sul palco del festival di Sanremo la protesta del mondo agricolo non si è fermata, anzi i mezzi continuano a presidiare la capitale e diversi altri punti del nostro paese, insoddisfatti di quanto ottenuta finora il mondo dei trattori continua a minacciare ulteriori manifestazioni. A nulla è valsa la proposta dell'esecutivo di un'esenzione dell'IRPEF a redditi agricoli sotto i 10.000 euro, salvo forse riuscire a spaccare in parte il fronte della protesta. Da una parte c'è il CRA, il comitato degli agricoltori traditi guidato dal pontino Danilo Calvani, dall'altra riscatto agricolo con i portavoce Salvatore Fais e Maurizio Senigagliesi, che invece hanno deciso per una linea più aperta al dialogo sia con Giorgia Meloni sia con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, tanto che un secondo incontro al ministero con riscatto agricolo si è tenuto proprio nella giornata di lunedì. Fra le richieste l'apertura di un tavolo tecnico di confronto fra istituzioni e mondo delle coltivazioni, oltre che la conferma degli impegni presi dal dicastero dell'agricoltura la scorsa settimana. Riscatto agricolo inoltre ha portato al tavolo dell'incontro anche un documento in 12 punti con le loro richieste nero su bianco, dagli risgravi fiscali alla salvaguardia del settore, oltre a un giro di vite contro i prodotti esteri. Il tutto arriva anche dopo che l'Unione Europea ha deciso anche lei di invertire la rotta su uno dei temi maggiormente contestati. Gli agricoltori vanno ascoltati, ha confermato Ursula von der Leyen, dopo il ritiro della proposta sui pesticidi che prevedeva un taglio del loro uso pari al 50% entro il 2030 in favore di pratiche ecocompatibili di controllo delle infestanti e target di riduzione anche a livello nazionale. Una proposta del 2022 contro cui il mondo delle aziende agricole si era fortemente opposto, paventando la perdita delle produzioni ma anche obiettivi troppo dissimili fra stati dell'Unione Europea. Tuttavia, fra i provvedimenti questa normativa avrebbe colpito soprattutto i pesticidi, in particolare il glifosato, quello più usato a livello mondiale e che è imputato di gravi danni alla biodiversità e alla salute umana, ma che continua ad essere usato indiscriminatamente. Quella di Bruxelles è una retromarcia che sembra, piuttosto che una vittoria per gli agricoltori, una strizzata d'occhio alle grandi multinazionali del settore. Allora, cercherò di essere il più possibile neutrale e di fare il mio lavoro da, come si può dire, da conduttore oggi. A parte avete notato che ultimamente la parola co-conduttore va di moda. Chi l'ha inventata? Eh sì. Mandechi. In questa trasmissione. Ecco sì. Prima non si riconosceva mai. È vero, ho sentito anch'io. Il co-conduttore è nato qua dentro e adesso tutti hanno un co-conduttore. Non mi inventirò un'altra cosa. Le cose non sono mai casuali. Però io voglio dire una cosa. Ma chi è venuta, rettore, ma chi può essere venuta l'idea degli agricoltori che hanno un reddito annuale, cioè in 12 mesi sotto i 10.000 euro? Diciamo che... Cioè nemmeno mio padre quando faceva il camionista e poi c'era l'agricoltore per hobby? Diciamo che... Sì. Poi l'esenzione si è rivelato un errore. Forse è stato calcolato in modo un po' disattento questo demenso. Ma su tutti i 10.000 euro non puoi campare facendo l'agricoltore? Certo, ma al di là di questo l'esenzione poteva rimanere perché sempre il problema di risorse se ne trovavano altre. No, ho capito, ma hanno sbagliato però le persone, gente che va in piazza con un trattore da 60.000 euro, 10.000 euro l'anno. Ma secondo me però, questa è una cosa che ho detto spesso in questi giorni, questo è un problema addirittura secondario perché il vero problema dell'agricoltore italiana è un altro, perché noi dobbiamo osservare il fenomeno sotto due profili. Uno europeo, con tutte le considerazioni che abbiamo visto nel servizio, ma quello italiano più grave sul quale non si interviene in qualche modo, bisognerebbe intervenire a mio giudizio, è la differenza tra ciò che gli agricoltori ricavano dal loro lavoro, cioè la materia prima, grano 0,25 al chilo, diventa pane 3 euro al chilo. Quindi è un differenziale troppo elevato. Quindi secondo me devono trovare il modo di intervenire sul prezzo che viene praticato senza speculare sul lavoro che fatica. Basta che poi il pane non arriva a 3,50. Eh no, è certo. Voi avete perfettamente il rione, però voglio dire una cosa, l'Università Nicolò Cusana è proprietaria di Interpan. Proprio del pane dovete parlare? No. No, no, no. Ce l'eravamo dimenticati. È una battuta, è una battuta, però voglio dire, avete scelto, no, l'esempio è giusto, è intelligente. E voglio far entrare in studio i nostri ospiti. Vi ringrazio qui in studio con noi Andrea Tiso, presidente Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo. Grazie, buonasera. Grazie di essere venuto qui con noi in studio. Presento anche gli altri Franco Ferroni, portavoce Cambiamo Agricoltura, responsabile agricoltura e biodiversità presso il WWF Italia. Buonasera, Ferroni. Non la sentiamo, Ferroni, forse deve mettere a posto il suo microfono. E poi l'avvocato Dario Dongo, fondatore della Great Italian Food Trade. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque, entriamo in argomento. Comincio con la prima domanda, Contiso. Io, così, ho una curiosità mia personale. Ma non è che l'Europa sia un po' incartata sull'agricoltura, anziché dare, come dire, mano libera a tutti, come in tanti altri settori, anziché stare a vedere chi produce un etto, un chilo, due chili. Ma sarebbe possibile produrre tutto quello che abbiamo sempre prodotto per i 150 anni prima di creare l'Europa e cominciare a dire che tutto quello che non consumeremo noi se lo consumeranno i cinesi, gli americani, gli indiani, cioè tutti gli altri. Perché non potremmo vendere a tutti gli altri quello che produciamo in più? O c'è proprio questa necessità invece di essere regolamentati, fermi, prima di arrivare su altri chiacchiere? Beh, diciamo che l'Europa negli ultimi anni ha assunto una posizione abbastanza netta pro, diciamo, ambiente, pro tutela dell'ambiente, non solo nel settore agricolo, ma in tutti i settori. Penso che attualmente le istituzioni europee siano un pochettino fuoristrada e siano anche troppo lente nel regolamentare il settore, perché consideriamo per esempio che la PAC, la politica agricola comune, è un settegno e prima di rinnovarla le consultazioni, gli accordi durano circa due anni. Però il mondo cambia molto velocemente. L'abbiamo visto tutti, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto delle guerre, c'è stata la pandemia, quindi ci sono state... Non abbiamo avuto, abbiamo delle guerre. Abbiamo delle guerre, insomma, sono scoppiate delle guerre, c'è stata la pandemia, quindi in realtà, secondo me, i tempi, i metodi e le condizioni in cui l'Europa decide sono subito fuori contesto, perché è troppo lenta nel decidere e perché probabilmente ha una visione troppo europea e poco mondiale di quella che è l'agricoltura, perché l'agricoltura nel mondo non si crea tutte le problematiche che ci creiamo noi in Europa. Però voglio soltanto... Ho fatto questa domanda prima perché il prodotto interno lordo dell'Europa è praticamente quasi lo stesso negli ultimi 15 anni, mentre quello degli Stati Uniti è raddoppiato. Non lo so se questa cosa è perché volevamo venderci ai russi, ai cinesi o agli americani, ma è una curiosità. Lo domando a Franco Ferrone, stessa domanda, cambiamo agricoltura. Cioè è possibile, secondo lei, o meglio di no, produrre quello che ognuno di noi sa produrre e poi cominciare a vendere quello che è Insul Plus agli altri Stati del mondo? Allora, l'Unione Europea, come oggi, è un esportatore praticamente netto di prodotti agricoli. Noi abbiamo, soprattutto noi italiani, siamo ai primi posti per l'esportazione di prodotti agricoli, in particolare prodotti agricoli trasformati ad alto valore aggiunto. Questo aspetto di quanto pesa oggi l'export del prodotto agricolo ha condizionato un po' con le politiche degli ultimi anni che stanno oggi presentando un po' il conto agli agricoltori. Tutti gli accordi che sono stati definiti in questi anni, gli accordi di commercio, libero commercio e di scambio tra continenti, pensiamo all'accordo con il Canada o il Mercosur, che al momento è stato bloccato proprio come risposta anche alle professe degli agricoltori, hanno creato meccanismi sicuramente sbilanciati dove non è stato adeguatamente inserito il cosiddetto principio di equivalenza e quindi il fatto che i prodotti che noi poi importiamo da questi paesi, soprattutto materie prime, debbano rispettare gli stessi parametri, gli stessi criteri di sicurezza per la salute e per l'ambiente. Ma questi accordi noi li abbiamo sottoscritti proprio perché volevamo rafforzare il nostro ruolo di esportatori di prodotti agricoli ad alto valore aggiunto, soprattutto, ripeto, alimenti trasformati. Quindi è un gioco di dare e avere nel mercato internazionale, nel mercato globale. Purtroppo chi sta pagando il prezzo maggiore di questi accordi sono gli agricoltori che sono l'anello più debole lungo la catena. Quindi non è solo un problema di gestione del mercato a livello nazionale, è un problema più ampio che riguarda i trattati commerciali, gli accordi a livello globale. Quindi l'Unione Europea ormai dalla riforma Fischer del 2000 ormai non collega più il versamento dei sussidi della PAC alla quantità di produzione. E questa favola che l'Unione Europea stia pagando gli agricoltori per non coltivare è sostanzialmente non vera. Anzi, per la prima volta finalmente l'Unione Europea aveva timidamente introdotto dei meccanismi per cui gli agricoltori venivano pagati per mantenere servizi ecosistemici che sono fondamentali per la stessa agricoltura. Ma si è fatto credere che in realtà l'Unione Europea non voleva far produrre sui terreni europei per poter favorire l'importazione da paesi esteri. Bene. Avvocato Dongo, alla domanda che io ho fatto lei come risponderebbe? Ma prima di preoccuparsi di esportare il surplus bisogna preoccuparsi di dare agli agricoltori il giusto prezzo, di garantire la copertura dei costi di produzione, di garantire un reddito eco e questo non lo si fa attraverso benefici a pioggia, detrazioni fiscali, esenzioni IRPEF ma lo si fa definendo una regola fondamentale che è stata accennata nel 2019 con una direttiva sulle pratiche commerciali sleali, una direttiva europea dove ai tempi il relatore era Paolo De Castro ed è stata male applicata in Italia con un decreto legislativo 198 del 2021 che di fatto è fallito negli obiettivi di ristabilire un equilibrio all'interno della filiera agroalimentare tra le parti ontologicamente più deboli di agricoltori che sono nella stragrande prevalenza aziende agricole a dimensione familiare e contadina questo vale non solo per l'Italia ma vale anche per l'Europa, parliamo del 94,8% delle aziende agricole in Europa il 63% delle aziende agricole in Europa ha meno di 5 ettari allora questa parte fondante della filiera agroalimentare deve venire remunerata a prezzi dei suoi prodotti che devono coprire i costi di produzione anche quando questi costi di produzione Avvocato mi scusi, Avvocato Dongo, le devo fare per una domanda perché leggo giustamente che lei è avvocato giornalista esperto in diritto alimentare e dei consumatori a livello europeo e internazionale allora io voglio fare un attimino al consumatore perché qui abbiamo da capirci lei oggi difende da una parte gli agricoltori ma da una parte dovrebbe difendere anche il consumatore allora il consumatore quando entra nel supermercato ormai se andava in gioielleria a prendersi l'anello pagava meno perché quando prende due pomodori, tre zucchine e quattro insalatine esce fuori che si è rovinato quindi onestamente il consumatore tutto sto pianto greco degli agricoltori non lo può capire ora io le domando dove sta il buco? la filiera sì, la filiera però devo domandare a voi il buco sta proprio in una filiera che è lunga che ha una serie di passaggi una serie di intermediazioni delle quali è una serie di inefficienze delle sacche di inefficienze soprattutto proprio nella grande distribuzione per cui bisogna capire come sono nati questi buchi lo voglio domandare anche a Tiso Tiso, come sono nati questi buchi? perché non è che qui tutto è nato per caso qui diciamo purtroppo il settore è stato oggetto negli anni di una fortissima speculazione perché il settore agricolo si divide in due parti ci sono, come diceva prima l'avvocato una grandissima fetta di piccole e piccolissime aziende che produce l'80% della produzione agricola mondiale e c'è un 20% di macro imprese agricole che sono quasi imprese industriali che hanno un altro sistema di fare agricoltura allora qui abbiamo micro e macro purtroppo non esiste la parte media quindi abbiamo quell'agricoltore da 5 ettari come diceva l'avvocato e poi abbiamo quelli che invece immagino abbiano 150.000 ettari giusto? perfetto quindi cosa succede? succede che chi ha una maggiore estensione chi ha maggiori scale diciamo di riduzione dei costi una maggiore produzione può andare sul mercato e fare il suo prezzo però il suo prezzo non può essere mai uguale a quello di un piccolo agricoltore che ha 5 ettari che non ha una scalabilità dei costi di produzione che non ha l'opportunità di offrire al mercato grandissime quantità di produzione ma che probabilmente ha un prodotto qualitativamente migliore di quello della macro impresa perché la macro impresa per produrre di più prova a utilizzare anche i sistemi che le consentono di avere il massimo della produzione probabilmente il piccolo agricoltore che utilizza diciamo un'agricoltura un po' più tradizionale ma non un'agricoltura che è antica un'agricoltura innovativa in molti casi ma tradizionale rispettosa dell'ambiente in molte circostanze purtroppo questo produttore che però è il tessuto del made in Italy perché il made in Italy però aspetti prima di arrivare al made in Italy perché voglio fare una domanda a Ferroni Ferroni scusi il piccolo produttore è più facile che la biodiversità nell'agricoltura cioè le cose buone le trovo più facilmente nel grande diciamo industriale agricolo o nella piccola agricoltura allora sicuramente il piccolo agricoltore ha le condizioni per poter gestire con maggiore attenzione il suo ambiente ma dipende poi tutto dal tipo di agricoltura che pratica ora è profondamente sbagliato parlare di agricoltura al singolare in tutta Europa e anche nel nostro paese ormai esistono diverse agricolture non sono tutte uguali ce ne sono alcune virtuose come l'agricoltura biologica l'agricoltura biodinamica tutte quelle che in qualche modo si rifanno a pratiche agroecologiche e dall'altra parte ci sono agricolture che invece sono fortemente dipendenti da input chimici di sintesi e tecniche che invece hanno un impatto ambientale rilevante tutti i dati di monitoraggio sulla biodiversità condotti in Italia e in Europa ci dicono che oggi l'agricoltura intensiva dipendente da pesticidi e fertilizzanti è la prima causa di perdita di biodiversità quindi e questo è indipendente dalle dimensioni dell'azienda dipende da come l'agricoltore gestisce la sua azienda voglio però sottolineare un aspetto importante ora la grande distribuzione ha sicuramente le sue responsabilità nella distribuzione delle risorse lungo la catena del valore ma voi pensate che la grande distribuzione pratti e stabilisca il prezzo direttamente con la singola azienda agricola magari quella azienda agricola di 5 ettari di cui si parlava assolutamente no il ruolo fondamentale hanno i soggetti intermediari tra la grande distribuzione l'industria e gli agricoltori e diciamola tutta oggi un ruolo fondamentale in questa intermediazione la svolgono i consorzi agrari che per l'80% sono in mano a Coldiretti il fatto che Coldiretti sia presa di mira dagli agricoltori che manifestano e protestano ha delle sue ragioni dei suoi fondamenti Coldiretti gestisce con la società italiana sementi un mercato importante legato alle sementi agricole e soprattutto con la società CAI consorzi agrari italiani è uno di quegli intermediari che concorda e stabilisce il prezzo con l'industria e con la grande distribuzione non sempre a vantaggio dei suoi associati Ferroni ecco io voglio capire una cosa a vantaggio dei suoi associati lo domando a Tiso o a svantaggio dei suoi associati non riesco a capire questa cosa vantaggio o svantaggio guardiamo le proteste di questi giorni non è che abbiano fatto un egregio lavoro insomma questo volevo dire mi sembra che qui i singoli sono svegliati e hanno detto stop che poi il governo ha fatto una grande gaffa non ha invitato al tavolo proprio le associazioni di coloro che dimostravano cioè i dimostranti sì in realtà diciamo il governo questa è una dimenticanza piccola è come dire stavo facendo la guerra contro XX non è venuto al tavolo della parte purtroppo devo dire che questo sistema di invitare sempre le solite organizzazioni agricole noi lo contrastiamo e lo critichiamo fortemente bisogna essere poco intelligenti io ho una dimenticanza oggi c'è stato però l'incontro signore scusate dopo che sbagli per la settimana ci manca che tu non lo faccia sei scemo se non lo fai però dobbiamo anche dire che sono molto frazionato molto frazionato scuoto un po' la testa c'è stata questa riunione con questi signori oppure ancora ce ne siamo dimenticati abbiamo una parte di questi a una parte riscatto agricolo sono molto frazionati sono molto frazionati quindi se ne sono molto frazionati che vogliamo fare eliminarli le maciniamo no 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 ma io vengo a lei possono invitare tutti la protesta degli agricoltori è rivolta anche alla col diretti così facciamo nome e cognomi e la col diretti nei primi giorni delle manifestazioni non c'era a tutti i governi non c'era pare di sì a governo stava molto simpatica a questo in particolare poi diciamo a questo sta simpatica molto simpatica la col diretti è bella sta cosa perché mi hanno una domanda un po' cattiva come il CAI fanno ancora gli agricoltori o fanno gli industriali vabbè andiamo in pubblicità mentre ci pensiamo e torniamo fra un minuto e mezzo in modo tale che tutti possiamo evidentemente riflettere che ho due o tre domande cattive le voglio fare proprio bene voglio non voglio la pubblicità in mezzo possiamo andare con la pubblicità siamo a punto non solo allora adesso voglio veramente cominciare a parlare di qualcosa diciamo di diverso argomento chiave l'Europa sembra che il mostro sia l'Europa lo dico a tutti e tre lo dico a Tiso che è qui con me lo dico a Ferroni lo dico a Dongo vi pregherei di essere attenti noi abbiamo 75 onorevoli italiani che stanno in Europa sono il 10,8% degli onorevoli europei perché tutte le volte sento dire che in Europa è colpa diciamo dell'Europa io mi domando ma chi c'è in Europa e poi scopro che noi siamo il 10,8% attenzione su 26 stati io non vorrei deludere nessuno in tre Italia, Germania e Francia facciamo quasi 250 onorevoli cioè gli altri poverini qualcuno ce n'ha dopo di noi ce n'è una e ce n'ha una cinquantina poi 40 30 18 voglio dire noi siamo in tanti com'è possibile allora che noi lo dico a voi che siete addetti a lavori comincio con Tiso e poi arrivo a Dongo un minuto e mezzo per uno come mai noi non riusciamo a fare squadra e avere un'idea precisa di che cosa deve essere la nostra agricoltura è colpa di tutti i governi che abbiamo avuto è colpa dei nostri onorevoli di chi è colpa? ma in realtà diciamo il problema dell'agricoltura è un problema antico diciamo ha origini ormai trentennali almeno di 40 anni fa lei non c'era nemmeno 30 anni fa quindi no però 40 anni fa funzionava sì il problema è che l'evoluzione poi e soprattutto diciamo l'allargamento diciamo ai prodotti a livello globale ha creato delle dinamiche diverse adesso diciamo abbiamo delle difficoltà l'Europa sinceramente secondo me non si può addossare la responsabilità all'Europa e basta non esiste questo discorso ma anche perché l'Europa non esiste 375 onorevoli sono italiani appunto dai su e poi diciamoci anche che in Europa c'è il Copa e il Coggeca che sono i due organismi di maggiore di rappresentanza degli agricoltori e degli interessi degli agricoltori in Europa nei quali ci sono le organizzazioni maggiormente rappresentative tra cui anche quelle italiane che fanno gli interessi agricoltori in Europa per cui se noi abbiamo questa parte che dovrebbero fare gli interessi qui sono incazzati i francesi i tedeschi tutti tutti sono incazzati allora vogliamo capire forse facciamo l'interesse dei cinesi dei russi vedo un canarmato passato dietro di me non lo so non c'entra poco con l'agricoltura poi l'Europa diciamo non ha toppato in tutto secondo la nostra visione sicuramente si poteva fare meglio però il problema ce l'abbiamo anche noi in Italia perché noi dobbiamo tutelare la nostra filiera dobbiamo riconoscere il giusto prezzo ai nostri agricoltori dobbiamo tutelarli a livello contrattuale devo passare a Ferroni poi la tutelano anche da lei Ferroni la stessa domanda e cosa ne dice lei i nostri 75 onorevoli non sanno niente di agricoltura vengono tutti dall'industria i nostri eurodeputati sono stati molto bravi a tutelare gli interessi delle grandi corporazioni agricole e delle multinazionali che fanno affari sull'agricoltura certo non a tutelare i tanti piccoli e medi agricoltori che vivono invece di agricoltura io voglio ricordare che l'Unione Europea con l'attuale bilancio continua ancora a sovvenzionare il settore agricolo più di qualsiasi altro settore economico il 30% del bilancio dell'Unione Europea va all'agricoltura sono 387 miliardi di euro in sei anni non sono due spiccioli il problema è che questi soldi vengono distribuiti male sono distribuiti per l'80% solo al 20% delle aziende cioè le più grandi 387 miliardi in due anni no in sei anni ah in sei anni scusi scusi prego è il periodo di programmazione di qualsiasi politica agricola comune che abbiamo avuto nell'Unione Europea la PAC dura sei anni a una programmazione di sei anni e si utilizza le risorse che vengono stanziate dal bilancio europeo che è un bilancio che dura sei anni anche il bilancio dell'Unione Europea ora il problema è il fatto che la PAC è stata decisa dalla stragrande maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento questo è bene ricordarlo perché tutti dalla destra alla sinistra hanno votato contro solo i Verdi e per quello che riguarda i parlamentari italiani solo 5 eurodeputati del Movimento 5 Stelle hanno votato contro e hanno lasciato il gruppo proprio perché il Movimento 5 Stelle invece aveva votato a favore quindi stiamo parlando di una PAC che ha avuto un altro aspetti che la devo fermare un attimo se no sarei ingiusto però voglio dire comunque sono 65 miliardi l'anno comunque a ogni Stato cioè a noi non so quanto ne venga all'Italia 10% il 10% va all'Italia ho capito 36 miliardi vuol dire che sono 6 per 6 36 miliardi l'anno passiamo un attimo a Dongo Dongo stessa domanda stesso tempo la disgrazia la disgrazia degli agricoli sono le confederazioni agricole che li rappresentano o meglio li dovrebbero andando piano alla bandecchia oserei dire prego in Italia e a Bruxelles queste confederazioni agricole che hanno avuto una opportunità splendida di favorire una transizione ecologica che significa non soltanto fare bene all'ambiente non soltanto offrire alimenti più sani e quindi favorire il benessere delle popolazioni non solo non inquinare le nostre acque che sono oggi anche le acque profonde impestate di veleni ma la transizione ecologica avrebbe anzitutto portato un grande beneficio economico ai piccoli agricoltori i quali avrebbero ricevuto finanziamenti per ridurre la loro dipendenza dai colossi dell'agrochimica per rendere i loro terreni più fertili senza bisogno di dipendere dai fertilizzanti azotati i cui prezzi sono aumentati di 3,5 volte negli ultimi anni facciamo per dire i russi questo e più che i russi ormai facciamo i cinesi dai russi e i cinesi evidentemente l'Europa si sta vendendo a pezzi si sta vendendo si sta vendendo la testa e la pelle degli agricoltori alle oligarchie agroindustriali i quali stessi hanno un monopolio sugli renti sugli input chimici e poi investono sui terreni intivorando così le microaziende in 20 anni il 37% delle aziende agricole europee è chiuso ed è stato ceduto e questo è il frutto di una politica sbagliata e di una rappresentanza traditrice delle grandi considerazioni aspetta aspetta l'affermo se no sarei ingiusto però ricomincio anzi rettore scusi perché bravo prego volevo dire che nel 2022 l'agricoltura ha avuto una produzione pari di 74 miliardi la l'agricoltura la produzione agricola 74 miliardi quindi siamo nell'ordine di un 4% scarso del PIL pochissimo perché l'agricoltura e il turismo devono essere fondamentali rimaniamo protagonisti per il vino e l'olio perché il vino siamo secondi dopo la Francia l'olio e poi un'ultima cosa però negli ultimi anni siamo in Europa retrocessi al terzo posto la Germania ci ha sorpassato ma su cosa? sull'agricoltura sul valore della produzione sul valore della produzione agricola sì Francia Germania certo farsi superata la Germania no anche perché le caratteristiche territoriali della tradizione italiana ma a questo punto mi viene una domanda scusate la faccio a tutti e tre ma perché ho letto da una parte ho letto una cosa simpatica e cioè le nostre terre destinate a produrre energia elettrica attraverso i pannelli solari energia elettrica che poi pagheremo cara perché comunque non avremo più niente da mangiare che cosa che cosa mi dite voi cominciamo da Tiso Tiso i pannelli solari ci levano la terra per l'agricoltura o è una barzelletta no diciamo che il concetto è un po' a metà nel senso che c'è anche l'opportunità di produrre lì dove vengono installati alcuni pannelli solari bravo perché ho visto pannelli solari installati a 10 metri 11 metri che poi sotto hanno una produzione hanno una produzione questo qui bisogna cominciare ad entrare in un'agricoltura più moderna più innovativa diciamo da questo punto di vista che possa accompagnare oltre al reddito agricolo tipico anche un reddito derivante da queste attività collaterali come già avviene da qualche anno con altre attività per esempio le attività dell'agriturismo per esempio chiaro che noi però vogliamo tutelare l'agricoltura prima si parlava delle confederazioni agricole la nostra confederazione in questi giorni sta promuovendo una petizione la nostra petizione è vogliamo inserire l'agricoltura così come è stato fatto nell'ambiente all'interno della costituzione perché secondo noi per realmente tutelare questo tipo di attività la dobbiamo fare nostra a livello di carta costituzionale per cui così come è stato fatto per l'ambiente perché non inserire l'agricoltura se noi ci riconosciamo nel made in Italy se noi ci riconosciamo nelle produzioni italiane se noi ci riconosciamo nelle produzioni di nicchia di qualità che solo in Italia riusciamo a fare perché non inserirla anche nella costituzione ogni due giorni è anche una provocazione però il discorso qual è? perché ultimamente qui vogliono cambiare per troppe cose a me già mi tocca far duce se poi devo fare anche l'agricoltore no, dico è dura duce agricoltore potremmo trovare una sinta posso trattare al grano ad orso nudo però è un casino già fatto già fatto ora diciamo la petizione si estende anche ad alcuni aspetti che è proprio questo cioè andiamo a rendere trasparente la formazione del prezzo dai costi di produzione fino al consumatore rendiamolo trasparente questo è un aspetto e soprattutto i consumatori i consumatori sono persone intelligenti devono sapere come si forma il prezzo di un prodotto che comprano al supermercato non devono rimanere all'oscuro perché gli agricoltori sono i loro primi alleati bravo più che altro non debbono evidentemente affossare gli agricoltori a vantaggio di uno che non fa nulla perché agricoltura è vita agricoltura è salute mangiare sano significa stare bene e questo è un principio che tutti dovrebbero conoscere in Cina l'unica cosa che mi piace dei cinesi che mi piace tanto è che la prima medicina è il cibo quello che mangi è quello che sei e quindi il tuo medico ti dovrebbe venuto dire cosa devi mangiare qui la agricoltura è fondamentale perché si comincia a mangiare schifezze però stessa domanda la voglio fare a Ferroni a Ferroni Ferroni ma è possibile far vivere oggi insieme questa tanta voglia in Italia di energia solare che poi insomma non basterà nemmeno ma insieme all'agricoltura allora non solo è possibile ma è assolutamente necessario oggi abbiamo la tecnologia per poter rendere assolutamente compatibile la presenza dell'agri fotovoltaico con le coltivazioni qualsiasi tipo di coltivazioni dai seminativi alle culture raborre permanenti e la sfida delle energie rinnovabili è una sfida che è vitale per l'agricoltura io vorrei ricordarvi che solo l'anno scorso per effetto dei cambiamenti climatici le aziende agricole italiane hanno perso dal 10 fino al 70% di alcune rese 10% più o meno sul frumento sulla frutta come pere e ciliese abbiamo avuto perdite fino al 70% di resa e questo per cento di perdite in Italia su pere e ciliese ah ma per l'alluvione per l'alluvione effetto dei cambiamenti climatici e guardate siamo a febbraio e noi siamo in Sicilia siamo già in piena emergenza idrica e i dati degli istituti meteorologici senta però le voglio dire una cosa Ferroni ormai io sono diventato vecchio le grandi piogge iniziano a marzo finiscono a maggio normalmente in Italia ormai è così chi non l'ha ancora capito ora abbiamo passato la parte estiva diciamo la piccola estate la chiamo io tra un po' comincia la pioggia le grandi piogge bisogna sì il problema il problema è questo inverno non abbiamo neve e quindi non abbiamo avuto un carico delle falde e avremo piogge il problema è che rischiamo di avere piogge abbiamo anche tanto mare intorno forse bisogna cominciare abbiamo delle aziende che hanno dei desalinizzatori migliori del mondo bisogna cominciare ad usare il cervello perché insomma si sciolgono i ghiacci aumenta il mare sparisce Venezia beviamo c'è l'acqua del mare insomma bisogna iniziare ad adottare delle strategie di mitigazione delle emissioni e l'agricoltura in questo ha delle sue notevoli responsabilità ma soprattutto bisogna attuare una strategia di adattamento al cambiamento climatico lo so bisogna andare a casa un po' di genie purtroppo il tempo è tiranno voglio chiudere con Dongo Dongo a lei la stessa domanda non rida Dongo faccia l'avvocato se no poi dopo diventa difficile mi dica possiamo far vivere finalmente un'agricoltura insieme a diciamo la produzione di energia e l'Italia può diventare capofila di questa mentalità senza più trovarci a dove discutere di questa agricoltura dove qualcuno che evidentemente è di agricoltura ma ha saputo niente voi parlate di agricoltura fino adesso si è parlato di agricoltura e nel PNRR 1,5 miliardi su 3,3 se non ricordo male è dedicato alla creazione dei parchi agrisolari allora io dico ma è possibile che non si sia dedicato finanziamenti per favorire gli agricoltori a fare il loro lavoro e farlo bene non si è pensato alla biodiversità non si è pensato ad aiutarli a ridurre i pesticidi fertilizzanti e invece a chi si sono dati i soldi alla Enel di turno alle grandi compagnie indirettamente anche ai fornitori di pannelli solari cinesi ma si fa un po' di confusione detto questo è sicuramente importante che anche gli agricoltori vadano utilizzino i pannelli solari ma non vedo personalmente oggi l'attualità nel passare dal gasolio all'energia elettrica per mandare avanti un trattore mentre trovo prioritario dare agli agricoltori i soldi perché un trattore con l'energia elettrica non si potrà mandare avanti che se no bisogna mettergli un rimorchio col contenitore il piano di energia elettrica e qui ritorniamo all'idrogeno perché il trattore deve viaggiare o a gasolio o a idrogeno con le batterie il trattore non può viaggiare se no ci siamo proprio rincoioniti ma i cinesi che c'hanno un fascino particolare vabbè signori siccome non voglio dire cose cattive direttore scusi vorrei chiudere lei il blocco perché voglio fargli una domanda noi europei stiamo diventando cinesi? no no assolutamente no questo pericolo qualcuno allora si è venduto ai cinesi? no io credo che quello che dovremmo diciamo prendere in prestito dai cinesi è la visione che hanno loro nel pianificare le scelte strategiche se noi prendiamo la visione allora va bene la mia mentalità cioè bisogna mangiarceli da bene hai detto questo chiudiamo questo blocco signori io saluto Tiso saluto Ferroni e saluto Dongo augurando a tutti e voi tre che un giorno arriverà un giorno in cui l'Italia potrà evidentemente insegnare al mondo come si fa anche in agricoltura e prima di fare una legge forse sarà giusto aprire un tavolo di esperti ma non per perdere tempo per arrivare evidentemente ad una sintesi che possa realmente aiutare i nostri agricoltori come qualunque altro tipo di italiano vi ringrazio per adesso e niente chiudiamo questo blocco al prossimo appuntamento sperando che si trovi in una soluzione poi mi fate la cortesia chi parla di voi col governo per dirgli che 10.000 euro soltanto un demente poteva venirgli in mente di dare una cevolazione a quelli sotto i 10.000 euro beh così era per dire detto questo do un colpo di telefono io domani al ministro Lolo Brigida do un colpo di telefono a Lolo Brigida e gli vorrei domandare a chi è che è venuta questa idea forse a qualcuno dell'economia vediamoci il prossimo servizio entriamo nel prossimo argomento arrivederci un'auto di piccole dimensioni e di color celeste cielo viaggia per una strada tutta curve e panorami seppure ci fosse qualcosa di più italiano sarebbe difficile trovarlo durante la pausa pubblicitaria dell'appuntamento più italiano della televisione pubblica Sanremo eppure non è una delle prime edizioni del festival ma quella del 2024 e l'auto mostrata è la nuova Fiat Topolino una riedizione che con l'originale condivide ben poco la nuova auto è elettrica piccola adatta alla città e prodotta in Marocco non a Mirafiori Torino né a Pomigliano Napoli quegli stabilimenti sono ora a rischio dice l'amministratore delegato della multinazionale che ha preso il posto di Fiat Stellantis se non si danno sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici si mettono a rischio gli impianti in Italia aveva dichiarato Carlo Stavares citando proprio Mirafiori dove si produce la 500 elettrica e Pomigliano una risposta a Meloni era arrivata così puntuale il vero nodo però non sono gli incentivi ma è come gestire tutta la transizione verso il motore elettrico e soprattutto come far fronte alla concorrenza cinese nel settore della componentistica delle batterie le prospettive non sono particolarmente rosee la panda elettrica si fa in Serbia già ora la Topolino in Marocco e Pomigliano non ha direttive dopo il 2026 quando cesserà la linea della panda a benzina a Torino la produzione delle 500 elettriche è stata fortemente ridotta la paura per il futuro c'è una grande giornata perché vogliamo dire a tutti quanto siamo angosciati e quanto siamo abbiamo paura di quello che sta per accadere cos'è Torino senza quei 3 milioni di metri quadri dove si fanno le auto dal 1939 senza la fabbrica automobilistica più antica d'Europa la politica fino a questo momento ci aspettiamo che batta un colpo deciso così come non ha fatto fino ad oggi ancora con questo i lavoratori vogliono dire che non ci stanno ad una chiusura annunciata non ci stanno a stare in cassa integrazione non ci stanno a non lavorare e a essere pagati per non lavorare dopo aver incontrato il CEO Tavares il ministro delle imprese Adolfo Urso aveva parlato di produrre un milione di vetture all'anno nel nostro paese il titolare del Made in Italy ha poi annunciato di aver incontrato diverse volte il presidente di Stellantis John Elkan e ha parlato di un piano straordinario per cui è previsto fino a un miliardo di investimenti Scusate mi stavo giusto parlando di una bellissima notizia e cioè da 500 mila veicoli commerciali siamo diciamo di mezzi con le ruote siamo ritornati a 750 mila mi sembra che siamo saliti stavo parlando con Ferdinando Uliano segretario generale della FIOM Cisle no FIOM Cisle FIOM ecco perfetto mi sono sbagliato FIOM CGL è l'ora FIOM Cisle si assomigliano perfetto poi Manuele Donghi Manuela Sonna buonasera buonasera bastava alzare gli occhi e non avrei sbagliato Manuela Donghi vice direttore giornale radio giornalista economica autrice del libro La finanza per tutti grazie di essere qui con noi e Gigi Moncalvo giornalista e scrittore autore di numerosi libri sugli agnelli agnelli segreti virgola agnelli coltelli virgola è difficile leggere tutto questo eh Icarocciolo Juventus segreta Caracciolo Igracciolo Caracciolo I lupi e gli agnelli senta voglio cominciare da lei Moncalvo lei si sente sicuro quando va a giro la sera lo chiedono in molti ma sa questa gente usano metodi più più sofisticati il libro più pericoloso che ha scritto Juventus segreta perché ci sono i tifosi questo è più pericoloso la Gnagnelli è un'altra cosa questo qui è pericolosissimo glielo dice uno che ha avuto a che fare con i tifosi e sa che sono pericolosissimi va bene va bene cominciamo con Ugliano Ugliano abbiamo visto un servizio dove sta il problema il problema sta da la necessità di salire di un terzo dei volumi c'è un obiettivo che è stato condiviso arrivare a un milione arrivare a un milione questo è stato condiviso dopo tre mesi di discussioni tra governo e Stellantis una volta condiviso l'obiettivo è chiaro che bisogna declinarlo poi con delle assinazioni produttive vogliamo però ricordare a tutti gli italiani che noi eravamo a due milioni di veicoli ma chiaro che siamo in una situazione in cui no voglio dire non è impossibile perché noi ne facevamo due milioni la capacità produttiva degli stabilimenti arriva anche a due milioni volevo dire questo perché andando su tre turni su venti turni settimanali si arriva anche a quelle dimensioni lì però noi in maniera un po' più modesta pensavamo di aumentare almeno di un terzo delle produzioni un terzo delle produzioni è quello che è stato condiviso tra governo e Stellantis dopo tre mesi di discussione perché dal mio punto di vista Urso non aveva capito al momento che era un milione di veicoli comprendendo dentro i commerciali perché a un primo momento aveva detto un milione di auto un milione di auto vuol dire raddoppiare le produzioni che è veramente complicato lui parlava di autovetture praticamente secondo poi alla fine si sono chiarite su un milione di veicoli comprendendo 230.000 veicoli commerciali questo significa di aumentare di un terzo delle produzioni è comunque un obiettivo ambizioso perché noi siamo di fronte a una transizione verso l'elettrico quindi a un volume di richiesta di macchine elettriche inferiore rispetto alle macchine tradizionali siamo di fronte comunque alla necessità di dover assegnare nuovi veicoli è chiaro che questo aspetto qua dal nostro punto di vista deve essere oggetto di una politica industriale che significa quante autovetture assegno i vari stabilimenti non partiamo dall'anno zero perché siamo 751.000 vetture ma dobbiamo discutere di questo se tutto va in polemica politica rischiamo di chiudere le fabbriche per quello che noi diciamo guardate che a Tavares e al gruppo Stellantis a John Elkan a chi è dentro quell'azienda e decide noi dobbiamo dire a Mirafiori servono due vetture mettiamoci due vetture a Pomigliano ne serve una dimmi quando metti questa vettura cioè il raggiungere un terzo delle vetture non è che è il mondo dei sogni bisogna decidere quando partono le produzioni e quali tipi di produzioni vengono assegnate e questo dal volume e va bene aspetti Giuliano se no ci diciamo tu allora io passerei un attimino a Manuela Donghi vice direttore abbiamo detto del giornale radio allora Stellantis leggo qua e governo la guerra senza modelli è un vero piano cioè la domanda è ma senza avere modelli di autovetture possiamo continuare a fantasticare su cosa vogliamo fare c'è l'Italia alla fine in qualche direzione deve andare qual è secondo lei la progettualità migliore? ma io temo e spero che non sia così che siamo un po' in ritardo su questo perché guardate è vero che adesso stiamo discutendo sul caso Stellantis prima avete parlato degli agricoltori non a caso l'agricoltura e l'automotive sono due settori due comparti veramente strategici per il nostro paese e quindi non a caso ne stiamo parlando però qui parliamo in generale lo stava facendo anche chi mi ha preceduto di politica industriale l'Italia è da tempo che non riesce più a competere con altri paesi l'Italia è da tempo che si vede strappare via delle eccellenze l'Italia è da tempo che deve combattere con i denti serrati per cercare di tutelare le sue eccellenze e il made in Italy ma perché non riesce spesso a farlo? perché da una parte evidentemente le strategie sono sempre state legate non tanto a programmi a lungo termine ma legate alle emergenze e perché a livello competitivo purtroppo l'Italia è strozzata da una burocrazia che non ci permette di essere attrattivi nei confronti di altri paesi siamo uno dei paesi più tassati quindi in questo senso le imprese ovviamente e evidentemente cercano lì di migliori e di conseguenza anche i consumatori guardano altrove poi se ci mettiamo che il quadro già difficile da un punto di vista di produttività ed economico dell'Italia è stato aggravato così come per tutti però adesso dico anche qual è la differenza dell'Italia negli ultimi anni dove siamo stati attraversati da crisi a partire da quella del covid con l'arresto della produzione perché tutto si è fermato quindi con una penalità ancora più evidente poi con un'inflazione che è salita il posto delle materie prime che ha aumentato anche di tutti i componenti visto che stiamo parlando di macchine abbiamo fatto il pieno nel senso che anche altri paesi ovviamente hanno vissuto e stanno vivendo quello che viviamo noi oggi ma se noi ci presentiamo alla linea di partenza per fare una corsa con una zavorra sulle spalle di 10 kg ed altri paesi ne hanno solo due è chiaro che noi andremo sempre più lenti è evidente è evidente aspetti siamo un po' in ritardo ma non tutto è perduto attenzione non volevo dire che non si possono fare io capisco ma sono 30 anni purtroppo sono vecchio che sento dire che non tutto è perduto ma tra un po' ci siamo persi veramente tutti ci perderemo tutto comunque ok Moncalvo si prepari che ora arriva da lei non parlerò di Juventus intanto vado in pubblicità un minuto e mezzo torniamo subito signore un minuto e mezzo proprio il minimo sindacale perché qui purtroppo non ci mandano i soldi da Bruxelles Moncalvo arrivo a lei e prima di tutto una domanda di carattere ludico mi perdoni Moncalvo io vedo il libro Juventus Segreti vedo la copertina e non capisco ma dove me l'avete messo Agnelli? Agnelli è su un tombino zebrato una botola che si sta per aprire anzi si è già aperta la copertina è stata fatta qualche mese prima perché noi abbiamo discusso se era così invece era proprio così insomma è praticamente un tombino una botola una botola va bene allora lei è un esperto degli Agnelli io devo fare una domanda ma ci sono ancora c'è ancora in Italia la famiglia Agnelli o veramente è diventata è diventata la famiglia Elkan no 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 la famiglia Agnelli non c'è più gli ultimi esponenti della famiglia Agnelli cioè coloro che sulla carta di identità hanno il cognome Agnelli sono due sorelle dell'avvocato ancora in vita che hanno 96-95 anni c'è Margherita Agnelli la figlia la figlia è cancellata c'è poi Andrea Agnelli ma fa parte dell'altro ramo quello di Umberto con i suoi bambini piccoli quindi intanto il cognome Agnelli è stato cancellato Elkan girano le scatole di chiamarsi Elkan tanto che vorrebbe chiamarsi attraverso due tappe intermedie prima Agnelli e poi Agnelli ma avevano già pensato a questa possibilità quelle due grandi lenze di Gabetti e Grandestimes consiglieri dell'avvocato i quali avevano cercato di convincerlo ad affiliare non ad adottare John Elkan in maniera pensate che si chiamasse John Agnelli e in questa epoca di americanismi e di multinazionali che effetto avrebbe fatto invece si chiama Elkan e gli girano le scatole quando dice il gruppo Agnelli il gruppo qui e dice io ti ho la carretta si fa per dire perché ha ereditato tutto si è trovata una fortuna caduta dal pero senza meritarsela e si è trovata soprattutto la botta di culo mi scusi la parola di avere numerose morti davanti a lui persone che sono morte Giovannino Agnelli il figlio di Umberto Giovannino Agnelli in particolare forse giovane e brillante poi Edoardo Agnelli suo zio cioè il figlio di Gianni Agnelli e poi Gianni Agnelli e poi Umberto Agnelli non dimentichiamo l'avvocato chiusano importantissimo quello di Agnelli poteva non sapere i tempi di Intagentopoli poi Marchionne e quindi c'è tutta una filiera che gli ha aperto la strada e queste sono grandi botte di fortuna di lato B comunque Agnelli non ce ne sono più sono stati messi in disparte al punto che quando hanno celebrato lei è sensibile al tema del calcio lo so quando si è celebrato il centenario dall'ingresso degli Agnelli nella Juventus pochi mesi fa era un funerale perché da quel momento significava con la defenestrazione di Andrea Agnelli nella bottola che abbiamo visto in copertina che non ci sarà mai nella storia della Juventus un dirigente un presidente che si chiamerà Agnelli e quello è il risultato le faccio una seconda domanda poi ripasso a Uliano ma allora non c'è più gli Agnelli perché noi siamo affezionati al marchio Fiat c'è ancora la Fiat in Italia perché ora c'è Stellantis ma la Fiat la nostra fabbrica italiana auto autovetture Torino non c'è più ma lei ha mai sentito dire da qualcuno ha sentito sicuramente dire o la Mercedes o la BMW o la Audi o la Volkswagen ha mai sentito qualcuno dire o la Stellantis mi sono comprato una Stellantis no e allora ha visto quell'ultimo modello lì della 600 arrivata con forte ritardo perché ci sono arrivati quelli della Smart un'automobile rifiutata dalla Fiat più di vent'anni fa ha mai quella Smart lì dicono cioè arrivano le auto cinesi beh quella Smart lì avete visto nel vostro servizio che non viene prodotta in Italia ma c'è una cosa da tenere presente l'indotto che è la cosa più importante cioè quella centinaia di piccole fabbriche quelle che costruiscono il gommino per il tergicristallo il planare in plastica il pomello del cambio il tachimetro il tubo di scappamento eccetera queste sono state uccise dalla Fiat perché da 250.000 addetti quindi da 250.000 famiglie senza protezione siamo passati a 30.000 non solo ma la Fiat ha così intenzione di investire in Italia e li ha portati tutti questi dell'indotto rimasti ancora in vita vita aziendale mi riferisco li ha portati tutti il 9 il 10 novembre a Rabat in Marocco per indurli a investire lì a spostare lì le loro piccole aziende in maniera da essere più vicini basta se no lei mi sta innervosendo aspetti guardate gli ha detto guardate che qui gli stipendi sono di 280 dollari al mese sono 280 guardate che c'ho Uliano che non è legato aspetti un attimo Uliano no perché questa cosa è brutta cioè ora giustamente è vera sta storia che le nostre diciamo aziende chi fa i tubi chi fa praticamente è state portate a Rabat per dire qui se aprite è un affare ora adesso c'è stata questa segnalazione c'è stato detto perché io non ho visto le lettere in cui si invitava alcuni fornitori a supportare la fornitura dell'azienda che Stellantis ha direttore dobbiamo pubblicarci questa lettera che ha fissato che ha fissato che ha che ha fatto partire in Marocco però non è perché se da Francia o dall'Olanda mi mandi le lettere praticamente in Italia per farmi andare a Marocco cioè io non vorrei che succedesse come dire qualcuno è stato esiliato già gli voglio dire non è che siamo in una situazione così catastrofica è situazione è sicuramente difficile nessuno lo nega però è chiaro che non siamo in una situazione catastrofica perché altrimenti non staremmo litigando con il governo e con Stellantis nel dire che i 260.000 dipendenti che ci sono oggi nell'indotto in Italia che dipendono per il 40% per il gruppo Fiat bisogna fare in modo che vengono mantenute le produzioni e che vengono vincolate da questo punto di vista perché io capisco la descrizione però non siamo in una situazione così catastrofica se comunque il paese dobbiamo dircelo che ha 42.000 dipendenti in Stellantis contro la Francia che ne ha 40.000 contro la Germania che ne ha 13.000 contro la Spagna che ne ha 14.000 quindi se ha comunque un presidio importante è vero che dentro questa dinamica bisogna fissare tutta una serie di garanzie perché non c'è nulla di scontato perché comunque da questo punto di vista noi solleviamo alcune questioni perché anche la questione dei marchi è una questione complessa perché il gruppo Stellantis ha 14 marchi in corpo e ha 14? sì e ha tre piattaforme e una Maserati ma non italiani 14 14 comprendendo quelli americani di Chrysler Opel PSA allora se sono tre le piattaforme e 14 marchi da gestire è gioco forza che quando tu assegni una piattaforma a uno stabilimento viene rivestito con marchi diversi e quindi noi ci troviamo ad esempio Melfi dove stiamo parlando della piattaforma Medium e c'è due marchi DS quindi due marchi che vengono dal mondo PSA ci sarà un marchio della Lancia ci sono due marchi Jeep quindi la dimensione dei marchi è una dimensione che è cambiata rispetto al passato perché non dimentichiamoci che gli Agnelli del tempo anche di Umberto e di Giovanni Agnelli comunque in Polonia producevano la 500 certo la Y e la Panda che poi noi con un accordo sindacale abbiamo fatto venire in Italia in Serbia hanno prodotto la 500L in Turchia producono da tempo la Tipo il Doblò il Cubo stiamo parlando di una dimensione internazionale il tema non è tanto quale marchio tu fai ma quanti modelli destine i paesi perché la Spagna non ha marchi spagnoli eppure produce più macchine dell'Italia la Spagna arriva a produrre il 27% del totale della produzione europea quando l'Italia ne ha il 21% e la Francia ne ha il 20% parliamo dell'autovettura sì sì sto parlando di veicoli comprendendo dentro tutto tenete presente i veicoli commerciali si fanno soprattutto in Italia e un pezzettino adesso in Polonia quindi la Spagna per dire che non ha marchi spagnoli nel gruppo Stellantis ma ha assegnato una serie di modelli che gli consentono di far volume è chiaro che se da noi non riempi Mirafiori con una vettura a largo consumo non dai un futuro alla Panda non fai una politica di questo genere è chiaro che la prospettiva che diceva l'intervento che mi ha preceduto è chiaro che si va in quella dimensione però quello che vorremmo noi è riempirla di modelli e vincolare rispetto alle forniture perché è chiaro che se le forniture vanno tutte in Marocco e non si privilegia i nostri fornitori locali è chiaro che si presenta il disastro è chiaro che bisogna cambiare tutto allora voglio fare una domanda a Donghi Urso dice avverte Stellantis ci metto io un'attenzione ma non c'è Linette in Italia apriremo il mercato delle auto ad altri produttori ora il mercato italiano è interessante per altri produttori che se non sbaglio devono venire qua in Italia si devono cominciare a costruire la fabbrica perché ad oggi non ce l'hanno devono mettere i macchinari e poi devono cominciare a produrre ad oggi non lo so non voglio dire una stupidaggine chiedo un attimino a Uliano Uliano abbiamo Mercedes BMW che producono in Italia qualcuno? no quello che serve è il cinesi e al mercato europeo è il mercato europeo allora voglio domandare Donghi allora io credo che si ricolleghi un po' anche al discorso che ho fatto prima nel senso che la strategia se proprio vogliamo prendere la politica del ministro D'Urso che è seduto al tavolo per valutare un po' le possibilità del futuro sul fronte dell'automotive è anche corretta cosa ha detto possiamo pensare di dare degli incentivi non al consumo ma alla produzione sia anche per la componentistica questo vuol dire che chi viene a produrre in Italia potrà avere degli incentivi e potrà avere ovviamente delle facilitazioni il problema è che non basta questo perché se in Italia si ha più difficoltà come ha detto lei correttamente se io devo aprire un'azienda un'impresa da zero ma sapete in Italia che trafila c'è rispetto ad altri paesi a livello burocratico a livello di tassazione a livello di controlli intesi come passaggio da una mano all'altra da un ufficio all'altra per poter poi finalmente dare avvio a un'attività e quindi ovviamente sono tutti elementi che fanno desistere ci sono altri paesi dove sicuramente l'accesso al credito in questo momento l'accesso al credito meriterebbe un altro discorso però comunque l'ingresso nell'impresa è molto più semplice e quindi non abbiamo ottenuto un risultato evidente credo a livello lungimirante nel concedere degli incentivi alla produzione su questo non credo che ci possano essere delle cose contrarie che possiamo dire perché chi decide di aprire un'azienda una start up si trova nelle stesse difficoltà ogni volta poi è chiaro che come diceva una nota canzone visto che abbiamo appena lasciato alle spalle il festival della canzone italiana uno su milione cos'era su mille ce la fa uno su mille ce la fa guardi io me la canto tutte le mattine come fosse l'ave maria esco tutte le mattine di casa così la difficoltà è quella poi non nascondo il fatto che sicuramente dare gli incentivi alla produzione può aiutare non è che possiamo sempre voglio dire buttare via gettare via tutto quanto e far finta che nulla serva ci mancherebbe però la situazione non è catastrofica sono d'accordo ma è importante le faccio un'altra domanda però le faccio un'altra domanda a parte oggi la canzone dovrebbe essere uno su un miliardo ce la fa perché prima era uno su mille ma erano altri tempi il caso Stellantis la vera domanda l'Italia resterà protagonista nel mondo dell'auto una risposta secca io dico di sì perché credo che a un certo punto riusciremo a rimboccarci le maniche come sempre però guardi l'altro grande tema è proprio la transizione ecologica l'Italia rispetto ad altri paesi è molto indietro rispetto alla media europea da noi non tira il mercato dell'auto perché evidentemente il ceto medio in questo momento non ce la fa e questo dobbiamo prenderlo in considerazione perché se il ceto medio non contribuisce al paese insomma un po' di tentennamento ci potrebbe essere ok grazie Uliano una battuta anche a lei resterà il mercato dell'auto in Italia? deve restare no no Uliano è diversa la domanda deve restare qui ci sarebbe da più un capitolo però la domanda è resterà ad oggi come c'è o no? resterà se si fanno le cose che noi stiamo chiedendo da tempo c'è la necessità di attivare la domanda non si possono aspettare nove mesi per fare gli incentivi rispetto alle auto elettriche ma non le viene a lei un po' il dubbio perché c'è un problema se costano il 40% in più perché costano il 40% in più ma poi sono il futuro ma poi sono il futuro c'è tutto un problema della rete c'è tutto un problema di attivare l'offerta come diceva giustamente allora primo c'è la rete secondo i trattori non andranno mai i camion e i pullman non andranno mai con le batterie no ma la domanda la domanda sull'auto elettrica se ha un futuro è centrale perché il padron il padron di Toyota il padron di Toyota che si chiama Toyota io non lo sapevo mi ha fatto sorridere questa cosa ha detto che il 30% il mercato delle auto elettriche dal suo punto di vista rimarrà il 30% su scala mondiale il resto e sta già impegnando la Toyota su questo verterà sull'ibrido e sull'idrogeno ma per forza l'ibrido e l'idrogeno avranno un futuro quindi il mercato dell'elettrico è già non dico saturo ma ci siamo sono delle benzine oggi che alla fine inquinano molto meno perché sono tutte sintetiche rettore la domanda la domanda è anche per noi noi abbiamo perso i primati che avevamo nel campo come diceva Clux prima svenderanno i nostri gioielli poi ci impoveriranno l'abbiamo perso per effetto proprio della Fiat prima è diventata con Marchion FCA poi dal 2021 siamo passati a Stellantis se guardiamo anche la composizione del capitale noi abbiamo sempre attraverso Exor che è la finanziaria del gruppo Agnelli il 14% però poi sommando le quote della Peugeot e dello Stato francese più o meno siamo lo stesso riello il resto del capitale è frazionato quindi non è nemmeno da escludere perché oggi noi assistiamo a un fenomeno un po' strano fino negli anni 90 erano partite le privatizzazioni oggi continua quel discorso però andiamo anche alla rovescia cioè lo Stato reinterviene nello sono modelli compatibili ma dove sta intervenendo? beh per esempio potrebbe intervenire in Stellantis per riequilibrare la composizione del capitale ma non deve intervenire in Stellantis se deve farci venire cioè o lo Stato interviene sul serio oppure no io sono d'accordo io oggi in qualche caso ha difficoltà entrare in ILVA eh lo so però vuol vendere le poste vuol vendere l'Italia vuol vendere le cose però messo alle strette se non c'è altra soluzione deve entrare io oggi ho fermato un'operazione di vendita di un secondo me un gioiello del comune di Terni e che comunque alla fine in qualche modo viene venduto oggi ho messo un dubbietto perché se anche nella mondezza non si riesce a guadagnare vuol dire che siamo diventati dei fenomeni del comune di Terni detto questo vorrei passare al più cattivo Moncalvo no lei non è cattiva però la domanda devo farla anche a lei abbiamo ancora una possibilità di avere delle macchine o le costruzioni delle macchine saranno ancora diciamo in Italia attraverso Stellantis o dobbiamo abbandonare proprio quest'idea e andare su altri lidi guardi c'è un esempio in Inghilterra Inghilterra ha dei marchi famosi automobilistici la Jaguar la Roll Royce la Bentley no la 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 MG beh è arrivato uno dall'India si è comprati la Land Rover è arrivato uno dall'India Tata si è comprato tutto e non c'è stata nessuna tragedia qui sentiamo parlare che già ai tempi di Umberto e Gianni Agnelli c'erano in produzione in Turchia in di qua di là di su e di giù fate una bella cosa avete una televisione importante avete qui anche il direttore presente fate domanda a Stellantis di poter entrare nello stabilimento di Mirafiori e di filmare le linee vediamo se ve lo concedono vediamo se vi lasciano entrare con le telecamere della vostra televisione all'interno di Mirafiori così fate vedere che cosa non c'è non che cosa c'è che cosa non c'è c'è la ragnatele la polvere c'è l'incuria c'è l'abbandono pensate che Conte gli ha dato 6,7 miliardi di garanzia pensate che Conte ha fatto montare con il commissario Arcuri che ce lo stiamo dimenticando purtroppo le linee a Mirafiori pagate dallo Stato e da noi contribuenti per costruire le mascherine ai tempi del Covid mascherine che poi si dimostrò che non erano neanche in regola e sono state rottamate guardi lei non le invito più perché lei ci sta facendo arrabbiare e ci sta facendo piangere quindi lei non le invito più perché ci dà tutta una serie indicazioni avete come me l'indignometro vede in Italia bisognerebbe distribuire gratuitamente un apparecchio come quelli per misurare la pressione c'è questa cosa è l'indignometro a seconda delle notizie c'è l'ago che va ovviamente se sale non dovete se sale non dovete preoccupare nel senso che manderemo a Mirafiori il nostro direttore con le telecamere vedremo se ci faranno entrare a Mirafiori perché vogliamo vedere su Youtube gli stabilimenti ci sono le registrazioni lei c'è entrato Giuliano anche io su Youtube abbiamo un rappresentante dei lavoratori Giuliano c'è entrato abbiamo un rappresentante dei lavoratori della Fiat ma il problema il problema dove sono questi qui o nel Fondo Scamano il problema che c'è è che mancano le produzioni che si è passati da 55 mila a 8 mila ma le linee di produzione adesso io capisco che uno possa rappresentare però bisogna andare a vedere direttamente avete ragione tutte e due però andiamo a vedere anche io su Youtube ho ancora i capelli bisogna lavorarci anche nelle fabbriche ci parlo con i lavoratori vedo la fabbrica basta andarci dentro ci può andare il problema che c'è è che non stanno facendo le auto mi devo abbandonare perché mancano 10 minuti alla fine della trasmissione l'editore poi si sconvolge con me lascio l'ultima parola ma proprio una battuta a Manuela Donghi giusto per gentilezza perché mi sembra si può fare ancora o è stessismo? no no io stavo dicendo esattamente il contrario stavo dicendo ma la dimostrazione di quello che sta succedendo in studio è che fanno più caos gli uomini è sempre così è sempre così è sempre così che quando ci sono troppe donne in una stanza fanno le gallinacce quando ci sono gli uomini fanno ugualmente caos e quindi io faccio il contrario vede che alla fine pure io mi ci metto no mi dica mi dica scherzi a parte faccio una battuta a lei ma mi risponde proprio con una battuta perché Elkan è in tour è stato in tour nella capitale ma non è andato a Palazzo Chigi è un'offesa per Palazzo Chigi o Elkan può andare insomma in tour a Roma senza andare perché pare che non ci finisse da anni questo ha creato però scalpore come è possibile o Palazzo Chigi non ha ricevuto perché preferisce ricevere mask no io credo che Palazzo Chigi sia aperto a ricevere chiunque forse Elkan destinerà magari dai mettiamola così visto che ha bisogno di una battuta secca magari destinerà l'ultima visita a Palazzo Chigi che sarà quella decisiva a parte questo evidentemente i rapporti i contatti sono avvenuti in modo diverso voglio credere questo diciamo così però signori siccome sto parlando col vice direttore di giornale radio e quando mi intervistano a me in veste di sindaco sono sempre cattivi volevo fare una cosa va bene a posto così allora ti aspetto anche la mia trasmissione a questo punto lei non mi ha mai invitato mi ha sempre invitato come si chiama aiutatemi altri colleghi Borgonovo 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 mi ha invitato l'ultima volta evidentemente non riusciva a farmi fare una figuraccia ma ha tenuto anche 25 minuti no io non le voglio far fare una figuraccia però lei mi deve promettere in diretta che viene la mia trasmissione Next Economy va bene? ah certamente sì guardi io sono ormai voglio parlare a tutti entro tre anni e otto mesi la lo sa voglio fare presidente del consiglio detto questo saluto saluto lei saluto Donghi saluto Uliano che è qui con noi grazie Uliano tutte le volte che viene lei ci porta però delle notizie interessantissime e saluto per ultimo il più cattivo Moncalvo e prima ci diceva per ultimo Alan Ford che di tutti è il più bello oggi qui diremo Moncalvo è il più cattivo Moncalvo a risentirci perché mi piace voglio approfondire no ma non ho lato libri voglio approfondire il libro Juventus Segreta e poi faremo anche un libro per quanto riguardava me nel mio ambito Ternana Segreta arrivederci perché non escludo di poter diventare evidentemente la famiglia più potente d'Italia arrivederci a tutti andiamo con le sigle vediamo di cuore non si sa mai andiamo con le sigle per il prossimo intervento allora Uliano mi aspetti un secondo però che scusate è bello della diretta a me sembra che uno viene qui io devo salutarlo Giuliano venga 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 lei mi deve scusare arrivederci no perché facevo per salutarlo e ha scappato via all'improvviso e quindi cioè giustamente perché i tempi televisivi sono sempre strani ecco e qui abbiamo fatto entrare il nostro il nostro Marco Antonellis con la sua bellissima sigla buonasera Antonellis buonasera a tutti buonasera ma ci manca una sigla non mi ero perso la sigla Lorenzo Regiroli buonasera analista sondaggi BD Media buonasera 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 a tutti grazie allora con voi due parliamo sempre di politica partiamo con Antonellis Antonellis ormai mancano tre mesi e venti giorni quanto è insomma all'europeo che mi sa dire lei? beh si stanno un po' preparando tutti quanti sia la maggioranza che nell'opposizione in maniera secondo me molto confusionaria non si intravede ancora una strategia comune nei due poli vanno tutti ognuno per conto loro calci negli stinchi all'interno della coalizione Antonellis mi scusi ma lei ma volevo dirle il purtroppo no purtroppo fortunatamente le europee sono proporzionali ogni partito va per conto suo io sarei stato felice il governo avesse fatto una sigla dove dice il governo perché sarebbe stato bello vedere però il governo è diviso c'è chi sta con i popolari europei c'è chi starà con i conservatori e c'è chi sta addirittura non mi ricordo con chi quindi purtroppo sono divisi certo anche perché poi però al netto di tutto nell'immaginario collettivo questi due poli ci stanno anche se poi si va con il proporzionale quindi sarebbe bello che ci fosse una maggiore unità per l'azione del governo stessa e per un futuro dell'opposizione invece vanno divisi e vediamo che si danno calci negli stinchi di continuo l'ultima sui trattori Salvini con questa tattica del più uno se uno dice 30 Salvini dice 31 se la Meloni dice 32 Salvini dirà 33 e così via nell'opposizione non lo parliamo con Conte con Conte che gioca sempre più che per tentare di creare comunque pur nel proporzionale dell'europeo però dovrebbe tentare di creare un terreno comune con il PD invece la sua battaglia è quella di scavarcare il PD avere un voto in più il PD e prendersi la leadership del centro-sinistra morale della favola poi il combinato disposto di tutto questo va a vantaggio ovviamente di Giorgia Meloni anche perché finché gli italiani non percepiscono che al netto del proporzionale o meno il centro-sinistra non ha una strategia comune ecco che saranno costretti volenti o volenti a tenersi Giorgia Meloni perché poi è un fatto di voti ma la politica è fatta anche dalla psicologia dalla percezione dai messaggi che vengono trasmessi non è soltanto il voto il risultato dell'urna quello è l'epifenomeno di tutto questo ma non c'è la politica è fatta di tante cose non è necessariamente soltanto il voto anche se il voto come sappiamo poi è il momento decisamente più importante però ecco da qui ai prossimi tre mesi mi aspetto ancora maggiori divisioni e pochi programmi per gli elettori cioè pochi programmi la gente vuole concretezza non vedo in nessuno dei due poli o comunque all'interno delle varie liste quella concretezza che secondo me gli italiani si aspettano perché il voto dell'Europa quest'anno più delle altre volte è un voto fondamentale non tanto e solamente per il futuro dell'Europa ma per il futuro dell'Italia e allora passerei un attimo a Regiroli Regiroli ma è cambiato qualcosa nell'ultima settimana o siamo sempre o siamo sempre voglio dire con le stesse situazioni c'è qualcosa di importante Fratelli d'Italia Lega nonostante guardi nonostante nonostante nella settimana di Sanremo non è che gli italiani pensino proprio tantissimo la politica in realtà nella media dei sondaggi qualche variazione significativa questa volta l'abbiamo per la prima volta dopo diversi mesi di flessione o stabilità torna a crescere il Partito Democratico più 0,3 ma soprattutto si segnala che nel complesso i partiti del governo perdono perde Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia perde la Lega guadagna qualcosina Forza Italia nel complesso è un meno 0,5 scende leggermente anche la fiducia in Giorgia Meloni ecco quindi diciamo che erano un po' di mesi che non vedevamo un calo di consenso nel governo ok Regiroli ma forse gli italiani cominciano a svegliarsi Regiroli comincia a fare no anche perché non si può sempre continuare a sentir dire che le cose si faranno domani prima o poi domani avrà da arrivare voglio fare una domanda tutti quei partiti che qui abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 partiti che presumibilmente andranno in Europa ma c'è qualcuno lo Stato attuale sì ma c'è azione per esempio ogni anno tocca il 4 poi è calata verde e sinistra il 3, 7 Italia viva se la può giocare perché poi dopo vedo che da più Europa in giù è difficile che possano arrivare al 4 parliamo del 2, 4 guardi allo Stato attuale le uniche due formazioni che hanno chance concrete di arrivare al 4% sono azione e verdi e sinistra in particolare verdi e sinistra sono alcune settimane che piano piano sta crescendo per azione invece c'è il tema se si federerà con quindi verdi e sinistra sta crescendo e azione si federerà secondo lei nuovamente con Italia viva le voci propendono un attimino di più per un tentativo con più Europa però anche Italia viva non è chiusa la strada diciamo che ci sono trattative comunque azione più Europa possono superare il 4 sappiamo che tra Calenda e Bonino tra Calenda e Renzi ci sono abbastanza allora l'ultima battuta prima di chiudere ad Antonellis Antonellis secondo lei ci sono trattative mi dica no no dico secondo lei ci sono trattative serie in corso oppure una cosa perché per esempio io so che De Luca dalla Sicilia poteva andare con come si chiama con azione di Calenda l'hanno chiuso quest'accordo o no? no credo di no c'erano stati dei pur parler nelle scorse settimane effettivamente è vero ma credo che ancora non abbiano concluso il tema vero è che Emma Bonino ha lanciato quella che definisce un'alleanza di scopo e l'ha lanciata a tutti gli europeisti quindi in particolare a Renzi e Calenda là però peseranno i rapporti tra i due quindi secondo me al 70% 80% è fatta l'alleanza tra Calenda e Bonino e Renzi ha paura di rimanere fuori da questa partita Renzi in queste ultime settimane è un po' in fibrillazione proprio per questo Renzi se resta fuori rischia parecchio perché lo 0-9 non è poco giusto? rischia moltissimo rischia moltissimo infatti rischia di rimanere veramente con il cerino in mano stavolta ma Renzi ha qualcuno in Europa già? a due persone in Europa? sì ha un paio di persone e dopodiché lui ha questo rapporto privilegiato diciamo così con Macron eccetera insomma però è chiaro che poi arriva da lontano insomma con l'Eliseo ha sempre avuto un asse privilegiato Matteo Renzi sin dai tempi quando stava al governo il punto vero è che poi però in Italia se non superi il barrage al 4% hai voglia a parlare di rapporto privilegiato con Macron alla fine serve questo 4% che ad oggi è dato a 5 partiti e forse a quest'unione tra azione e più Europa va bene va bene e niente aspettiamo chi vivrà vedrà ormai sono 3 mesi quasi sì no marzo aprile maggio 3 mesi e 20 giorni perché oggi che giorno è scusate io mi sono perso il 12 3 mesi 3 mesi e 28 giorni insomma quindi c'è ancora del tempo va bene va bene io vi ringrazio ringrazio Antonellis e ringrazio Regiroli per il vostro puntuale per il vostro puntuale per la vostra puntuale analisi buona serata e a lunedì prossimo buona serata buona serata buona serata a tutti grazie 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 bene e ancora una volta eccoci qua eccoci qua alla fine dell'imprenditore e gli altri almeno per questa per questa settimana sono contento di essere tornato con voi sono contento di aver potuto riesprimere e aver sentito tante belle cose come sempre capita in questa trasmissione dove si apprende si studia rettore è veramente una trasmissione che ha un senso didattico perché quante cose si imparano con semplicità che poi con semplicità ma è la cosa migliore ecco bravo che spesso la semplicità l'accezione positiva è una trasmissione positiva ma questa semplicità che ti dà tante forse sono delle emozioni la semplicità anche è chiarezza è chiarezza io delle volte scopro delle cose che sono fantastiche ma stasera parecchie cose abbiamo soprattutto poi argomenti che forse sì noi pensiamo di conoscere ma che poi ci sono i tecnici si riconosce forse da un punto di vista gli argomenti più popolari però devo dire che qui poi vengono fuori altri aspetti che magari solitamente non vengono a vedere questa trasmissione bisogna dirlo lo sanno i nostri ascoltatori ormai non è per vantarci ma noi vediamo sempre da un punto di vista diverso le cose un po' dall'uomo della strada che forse in maniera più burlona più semplice ma poi alla fine le cose vengono fuori sempre con un'anima diversa bene io ringrazio i nostri ascoltatori do appuntamento Dio volendo a lunedì prossimo e dobbiamo chiudere qui perché il rettore ha appuntamento con la sua 24enne come se è cresciuto ai due anni è cresciuto ai due anni e vabbè e noi invece torniamo a casa io da mia moglie che la cattiva uguale quindi passo beato il rettore perché non andiamo con il rettore vabbè tanto dorme lei non torna a casa stasera buona notte a tutti lei non è astuto sua moglie la fa dormire in marchio stasera stasera